Eccoci, tornati, ciao a tutti gli amici di Backstage, e ci ritroviamo, come sempre di consueto, con Nunzio, e stasera siamo qui per il San Rocco Festival, noi siamo Igo Imba, buonasera a tutti, ciao, Stefano Indino, Paolo Battistina Gitarra, stasera abbiamo un ospite speciale, Mattius Smedel, dalla Svizzera, io sono Alessandro Ibolini, e niente, che vogliamo dire, siamo contentissimi di essere qui, di avere sempre Nunzio con noi, ci segue sempre, e tanta... non si dice merda... Eh, pensi, ma vabbè però c'è stai, c'è stai, tanta fortuna, tanta fortuna, tante carrozze di cavalli, viva la musica e speriamo che possa riprendere sempre più brillantemente possibile. Sì, ma non tutti, fate il favore, per breve, insomma... Ciao, 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 ciao... Ciao, ciao, ciao... 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 Paolo Battistina di Gitarra, Stefano Dino, la fisa armonica, Mattia Sneder al flauto, ospite, mi sono il San Nicolini, grazie per essere stati con noi. Stefano vuol dire qualcosa? Io vi amo tutti!